Più viviamo in contatto con la supercoscienza, più libertà interiore abbiamo e più sentiamo gioia anche quando è difficile. Mi aiuta tanto a fidarmi, sento proprio acudita e protetta. La supercoscienza è la soluzione. È una pratica velocissima che riconnette subito. È quella cosa che ci aiuta a essere in contatto, in sintonia, con la guida della coscienza più elevata. Mi fa sentire un guerrier pronto ad affrontare le stesse cose. La bellezza di questo corso è che ci dà tanti strumenti pratici per vivere nella supercoscienza, nella vita quotidiana. Posso dire perché mi è successo, quindi le problematiche si risolvono quando si è proprio in connessione. È proprio come diceva Monica il fatto di sentirsi ascoltati. Non sempre mi è successo. Studiando psicologia, pedagogia, ho proprio ritrovato quali sono i miei meccanismi da regolare, da trasformare. Se sei pronto a prendere questi strumenti, a imparare proprio ad omare la mente subconscia, proprio trasformarla, portarla in alto, e se sei pronto a usare la mente cosciente al massimo livello, al massimo del suo potenziale, e soprattutto se sei pronto a prendere questi strumenti per trasformare la tua vita, portarla in una coscienza più elevata, allora ti invito di esplorare questo corso e usare questi strumenti per veramente vivere nella supercoscienza.